Ciao, ho preso l'album di debutto degli 80's Questo è il davanti Questo è il retro Vabbè, cicatola Ok E quindi facciamo così Abbiamo il città Lì, poi qua cosa avviene Oh, gli sticker Poi ci sono Oddio, aiuto Le Pascan Vediamo le canzoni Grazie E poi già Il poster Il pad book Questo debutto è stato qualcosa di meraviglioso E poi Grazie. Grazie. Comunque queste foto sono stupende. Grazie. 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 Ok, questo Photoboo è stupendo. Poi abbiamo le foto card, allora questa, un angolo! Che bella! Poi abbiamo questa qua, che è quella di gruppo, non so se quelle di gruppo sono tutte uguali o ci sono più versioni, e poi c'è questa che è credo la parte di una mappa, ma non è una sicura, e poi non so se sti, non mi ricordo, che non ti ricordo qualcosa, c'è un'altra piccola, c'è un'altra piccola, c'è un'altra piccola, ciao!